curiosa da provare è bellissima me la compro giuro accelerazione molto buona tipica dei veicoli elettrici bella bella davvero molto bella comoda molto divertente molto simpatico e soprattutto si guida molto bene bellissima veramente una macchina che consigliere a chiunque ci chiedono sempre di fare un giro in più utile per in città senza da mettere rapida e leggera bellissima è bellissima grazie a tutti